Oggi una bella frittatella, anzi un bel frittatone, con patate, silane, cipolla e anche peperoni. L'abbiamo fatta a tre gusti. Bella rosolata che mi piace a me, leggermente bruciacchiata, un bel bicchiere di vino e più tardi avremo tanto tanto da fare ancora. Tanti lavoretti in avanti che faremo vedere stata facendo.